Come possiamo vedere, ci troviamo in una chiesa purtroppo completamente vuota. A seguito di questa pandemia che ha colpito tutto il mondo, anche le chiese nelle nostre 12 comunità sono state chiuse, purtroppo, così come sono state sospese tutte le celebrazioni e quindi abbiamo una situazione dove noi cristiani soffriamo un po' la mancanza di questa visita alla nostra chiesa, il saluto che magari passando ci portava a entrare in chiesa. È una situazione triste, soprattutto vedere le chiese così vuote in un momento anche come quello appena passato, un momento pasquale, dove tutte le celebrazioni del Triduo erano comunque molto partecipate. Abbiamo la fortuna, diciamo, nelle parrocchie di Cembra e Faver di avere una radio parrocchiale che ha cambiato un po' il nostro vivere la domenica. Molte persone nuove hanno acquistato questa radio dove la domenica, il sabato sera Faver e la domenica Cembra possono ascoltare la Santa Messa celebrata dal nostro parroco. È un modo alternativo di partecipare alla Santa Messa, però è stato molto apprezzato perché proprio e soprattutto ai nostri anziani la partecipazione alla Santa Messa pesa molto. È un periodo molto difficile, ma forse è un periodo che ci fa riflettere un po' su quella che è l'importanza della partecipazione alle attività parrocchiali. Il mio messaggio è quello che, soprattutto in questo mese di maggio entrante, di affidarci un po' tutti a Maria che ci aiuti a superare questo difficile momento. Abbiamo la fortuna di avere un parroco come il nostro Don Bruno che tutte le domeniche ci manda un messaggio scritto che noi diffondiamo il più possibile a tutti i nostri parrocchiani, che ci fa sentire anche la vicinanza. Anche per i ragazzi che frequentavano la catechesi, da inizio pandemia non ci sono più stati gli incontri settimanali di catechesi in nessuna delle dodici parrocchie della valle. Non partecipavano alla catechesi, quindi non partecipavano neanche alla messa della domenica. Una grande mancanza per i ragazzi come vicinanza alla propria comunità, alla propria parrocchia, perché non potevano né vedere le catechiste, né sentire il parroco, né partecipare a quella che è la vita comunitaria della parrocchia. In questo periodo poi, anche con la Pasqua, non è stato semplice sentire i bambini vicini a questo momento perché non hanno potuto partecipare a nessuna delle celebrazioni. Tutti i riti, la comunione e le cresime sono state rinviate, non si sa ancora quando, però per quest'anno non saranno celebrate nelle nostre dodici parrocchie. Questo, diciamo, temporaneo allontanamento dei bambini e dei ragazzi forse potrà creare un ulteriore allontanamento, ma siamo anche sicuri che questo momento possa aiutare molti bambini, molti ragazzi a riscoprire Gesù e la fede, magari nella loro famiglia, con qualche preghiera, con qualche pensiero. A tutti i bambini e i ragazzi della catechesi voglio ricordare che noi catechiste ci siamo, siamo vicini a loro, che Gesù è sempre con noi anche in questi momenti difficili, che ci vuole bene e non ci abbandona e presto ci rivedremo.